Al termine di un'attività investigativa, i militari del NORM della Compagnia Carabinieri di Scalea della locale stazione hanno intercettato e arrestato all'interno dell'idoasi di Santa Maria del Cedro, sull'alto tirreno cosentino, Umberto Pietrolungo, classe 66 di Cetraro, considerato elemento organico della consorteria dei muto. Il latitante a marzo 2021 era fuggito a seguito dell'emissione dell'ordine di carcerazione avviata dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catanzaro, Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo lo stesso espiare la pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione per il reato di tentata estorsione in concorso aggravato dal metodo e dalle finalità mafiose commesso a Tortora nel periodo gennaio-aprile 2010. L'uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Cosenza. Grazie a tutti.